Itaka, Giosuè, una curiosità. Itaka, ma quante cazzo domande fai tu? Vabbè, le ore, le curiosità. Vabbè, al di là delle curiosità. Ma le metti pratica le cose che ti dico? Sono una domanda che è una mia curiosità. Come comportarsi quando la propria ragazza inizia a uscire spesso con amiche single? Amiche single? Oppure vai in vacanza con loro e si fa fare i weekend con loro? Per me è già inizio di progressiva poca stima. Cosa ne pensi? Allora, Itaka, già che mi hai fatto questa domanda sul finale, sì, non ti stima. Ma non ti stima proprio perché ha sentito che ti dà fastidio il suo comportamento. Prova a pensarci, se tu mi fai questa domanda e non me la fai a caso, me la fai proprio perché ti dà fastidio. A meno che tu non sia un intellettualoide che butti cose a caso così. Io immagino che questa ragazza sia la tua ragazza, ok? E se la tua ragazza comincia a comportarsi così e tu dici, per me è l'inizio di una progressiva mancanza di stima, probabilmente ha, anzi no, sicuramente ha colpito il segno. Perché te ne sei accorto, ti dà fastidio. E ti dà fastidio, praticamente ti stai mettendo fuori gioco da solo, così. Chiediti piuttosto perché ti dà così fastidio il suo comportamento. Chiediti qual è quella parte debole, individua la parte debole di te, che è stata fatta vibrare quando lei ti dice, vedi, tu guarda le parole che usi, no? Inizia a uscire spesso con amiche single. Vuol dire che tu sai con chi esce, sei informato che sono tutte single, vuol dire che sei preoccupato, vuol dire che eccetera eccetera eccetera. Oppure vai in vacanza loro e si fa i vari weekend con loro. E tu? Cosa fai? Perché è poi quella la domanda, tu cosa fai? Cioè stai lì ad aspettare? Ragazzi, cioè una donna perde stima, sì, sta perdendo stima, uno, come ti ho detto, proprio perché tu ti sei accorto di questa cosa, ok? Ma perché? Perché vuol dire che sei focalizzato sulla relazione, hai paura di perderla, hai paura di... Cioè lei sta avendo la prova che tu, nonostante il suo comportamento, non la lascerai mai. È quello che fa perdere la stima a una donna. Se una donna ti dice, non è questo il tuo caso, ma se una donna ti dice, non provo stima per te, ok? Oppure ti offende, dice, ah sei una merda, così. Non è lì la mancanza di stima, è il risultato che lei dai dopo, la reazione che provoca dopo. Se tu in quel momento cominci a cambiare il tuo comportamento in concomitanza, insomma, perché lei ti ha offeso, è lì che perde stima. È lì il famoso test di cui ho parlato all'inizio, uno dei famosi test. Non sono quelle cose come vi raccontano quegli altri là fuori, gli shit test, vediamo come rispondi al messaggio. Sono questi test, quando io dico, le donne lasciano a rimbalzi.